Un'interpellanza per sollecitare il Governo regionale, la Giunta Marsilio, alla ripartenza, ripartire con il progetto Scuole in Movimento. Un'idea, un progetto portato avanti nella scorsa legislatura che per ben tre annualità, con un milione di euro per ciascuna delle annualità, ha consentito due ore di attività motori ed educazione alimentare presso le nostre scuole, nelle prime e nelle seconde elementari. È riuscito ad arrivare a ben 22 mila bambini con un tasso di adesione delle scuole del 95%, 150 neolaureati assunti ovviamente di scienze motori, è un progetto che è stato anche ripreso. In quel tempo erano poche le regioni a portarlo avanti, due se non ricordo male, adesso è stato ripreso persino dal Governo nazionale perché il grande tema dell'obesità infantile, più volte sottolineato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è ulteriormente aggravato e appesantito in ragione ovviamente della pandemia che ha costretto a maggiore sedentarietà. Ecco perché con urgenza va ripreso. È davvero grave che allo stato attuale non se ne parli, l'idea nostra è appunto quella di tornare a sollecitare con risposte e certezze il Governo regionale, soprattutto in ragione del futuro delle nostre prossime generazioni.